Spesso quando non dormo di notte non faccio altro che chiedermi se ho vissuto davvero e se c'è qualcun altro che si pone la stessa domanda o se ci sono delle persone che sono capaci di vivere meglio di altre o se la maggior parte della gente non vive la vita pur esistendo a 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